Si scaldano i motori per l'arrivo del primo evento organizzato dal Comune di Fano in vista delle festività natalizie. Andrà in scena la sera della vigilia di Natale, a partire dalle ore 21 e in diretta su Rossini TV, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, concerto che vede protagonista l'orchestra sinfonica Rossini nella cornice del Teatro della Fortuna. Stiamo parlando della volontà di dare spazio a tanti artisti della nostra città, in questo caso all'interno del Teatro della Fortuna, quindi con la collaborazione del teatro, ma anche con la collaborazione e anche il contributo organizzativo dell'orchestra sinfonica Rossini e con la regia televisiva di Eris e Chiaroli realizzeremo due appuntamenti che per noi sono importanti. Il primo, il 24, per gli auguri di Natale, praticamente ci sarà questo bellissimo momento dove lo Schiaccianoci di Tchaikovsky verrà rappresentato dai disegni che il nostro ufficio fa una città dei bambini e delle bambine, ha fatto realizzare proprio dalle scuole locali, quindi dei disegni che rappresentano lo Schiaccianoci, che come per magia prenderanno un'animazione particolare e sarà proprio un momento per augurare un Buon Natale a tutti i cittadini di Fano, ma a tutti coloro che in un qualche modo risiedono nella nostra provincia e chi vedrà questo spettacolo.